nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen gesù ti amo con la tua volontà vieni divina volontà pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature mia divina maria ti amo nella divina volontà regina immacolata celeste madre mia vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia per chiederti che sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà mamma santa tu che sei la regina di questo regno ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino estretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di dio e come vivere in essa ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen vieni spirito santo 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 2 dicembre 1928 Il tabernacolo eucaristico ed il tabernacolo della Divina Volontà. Le privazioni di Gesù si fanno più a lungo e vedendomi priva di Lui non faccio altro che sospirare il cielo. Oh cielo, quando mi aprirai le porte? Quando avrai di me pietà? Quando ritirerai la piccola esiliata nella patria sua? Ah sì, solo là non rimpiangerò più il mio Gesù. Qui se si fa vedere, mentre si crede di possederlo come lampo ti sfugge e ti conviene fare la lunga tappa senza di Lui e senza di Gesù tutte le cose si convertono in dolore, anche le stesse cose sante, le preghiere, i sacramenti, sono martiri senza di Lui. Quindi pensavo tra me a che pro che Gesù ha permesso di farmi venire vicino al suo tabernacolo d'amore per starci in muto silenzio. Anzi, mi sembra che si è nascosto di più, che non più mi dà le sue lezioni sul Fiat divino. Mi sembra che teneva la sua cattedra nel fondo del mio interno e teneva sempre da dire ora non sento altro che un profondo silenzio. Solo che sento in me il mormorio continuo del mare di luce, dell'eterno volere che sempre mormora amore, adorazione, gloria ed abbraccia tutto e tutti. Ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù appena si è fatto vedere nel mio interno e mi ha detto Figlia mia, coraggio! Sono io nel fondo dell'anima tua che muove le onde del mare di luce della mia divina volontà e mormoro sempre per strappare dal mio celeste Padre il regno della mia volontà sulla terra. E tu non fai altro che seguirmi e se tu non mi seguissi lo farei da solo. Ma tu non lo farai a lasciarmi solo. Stando che il mio stesso Fiat ti tiene inabissata in esso. Ah, non sai tu che sei il tabernacolo della mia divina volontà? Quanti lavori non ho fatto in te? Quante grazie non ti ho versato per formarmi questo tabernacolo? Tabernacolo potrei chiamarlo unico nel mondo perché tabernacoli eucaristici ne ho in buon numero. Ed in questo tabernacolo del mio Fiat divino non mi sento prigioniero. posseggo gli interminabili confini del mio volere non mi sento solo tengo chi mi farà perenne compagnia. Ed ora faccio il maestro e ti do le mie lezioni celesti. Ora faccio i miei sfoghi d'amore e di dolore ora festeggio fino a trastullarmi con te sicché se prego se soffro se piango e se festeggio non sono mai solo. Ho la mia piccola figlia del mio volere divino insieme con me e poi ho il grande onore e la conquista più bella che più mi piace qual è una volontà umana tutta sacrificata per me e come sgabbello della mia volontà divina. Potrei chiamarla il mio tabernacolo pretiletto che trovo tanto gusto che non lo scambierei con i miei tabernacoli eucaristici perché in essi sono solo nell'ostia mi dà una volontà divina come la trovo in te che bilocandosi mentre la tengo in me la trovo anche in te invece invece l'ostia non è capace di possederla nei miei compagni e negli atti miei sono sempre solo tutto è freddo intorno a me il tabernacolo la piscide l'ostia sono senza vita e quindi io sono senza compagnia perciò ho provato tanto gusto nel tenere vicino al mio tabernacolo eucaristico quello della mia divina volontà formato in te che solo con guardarti mi sento spezzata la solitudine e provo le pure gioie che può darmi la creatura che fa regnare in essa la mia divina volontà ecco perciò tutte le mie mire le mie premure e i miei interessi sono per far conoscere la mia divina volontà e farla regnare in mezzo alle creature allora ciascuna creatura sarà un mio tabernacolo vivo non muto ma parlante e non più sarò solo avrò la mia perenne compagnia e con la mia divina volontà bilocata in esse avrò la mia compagnia divina nella creatura quindi terrò il mio cielo in ciascuna di esse perché il tabernacolo della mia volontà divina possiede il mio cielo e la mia terra questo brano è abbastanza credo toccante per certi aspetti e forse scioccante per altri almeno personalmente io quando sento certe cose rimango quasi senza parole si faccia caso io adesso ne riprendo qualcuno a quante volte Gesù pronuncia la parola solo sono solo in questo tabernacolo del mio Fiat divino non mi sento prigioniero non mi sento solo il primo se prego se soffro se piango se festeggio non sono mai solo il secondo invece nei tabernacoli ecaristici in essi sono solo l'ossia non è capace di possedere la mia vita e sono sempre solo tutto è freddo intorno a me ancora mi sento spezzata la solitudine non sarò più solo simile discorso si può fare con con la compagnia no? tengo chi mi farà perenne compagnia sono senza vita sono senza compagnia avrò la mia perenne compagnia avrò la mia compagnia divina nella creatura credo che ce ne siano anche altre queste sono soltanto alcune che ho segnato che ho evidenziato solitudine e compagnia e Luisa stessa all'inizio di questa di questo brano lamentava il suo sentirsi solo nel senso di privata della presenza di Gesù e lei stessa insomma diceva soltanto in paradiso non rimpiangeremo più Gesù allora la meditazione di oggi è un po' evidentemente su questa su questa frequenza gli esseri umani hanno questo grande problema tutti la solitudine quante volte ci siamo sentiti soli in questi tempi così strani così strani un afemismo così del tutto singolari così surreali per certi aspetti così inediti che prospettano e per certi aspetti già hanno creato scenari assolutamente inimmaginabili fino a qualche tempo fa più di qualcuno si sente solo abbandonato e nella solitudine certamente il peso dei problemi degli affanni delle prove diventa enorme un amico è anzitutto una persona con cui condividere il tutto quando si è un amico vero la vita è più bella è più leggera ma noi ce l'abbiamo un amico però Gesù nel Vangelo si è chiamato lui così quindi ci ha autorizzato a considerarli così non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone ma vi ho chiamati amici perché tutto quello che ho detto dal padre l'ho fatto conoscere a voi e questo lo dice agli apostoli a cui ancora non aveva parlato della divina volontà quindi pensiamo a chi si è già meditato 25 volumi del libro di cielo forse magari molte cose che Gesù ha udito dal padre le ha fatte conoscere a noi quindi non lo so possiamo sperare almeno che anche a noi Gesù possa rivolgere parole analoghe no non vi chiamo servi ma amici perché vi sto facendo conoscere vi ho già fatto conoscere tutto quello che ho detto dal padre non solo tutto quello che riguarda la vita nella mia divina volontà che questa è una cosa veramente grossa no e quindi e quindi il problema è la meditazione è duplice ma io la cerco l'amicizia di Gesù ho imparato che certamente qui sulla terra si può avere il dono di una grande amicizia chi trova un amico trova un tesoro ce lo siamo detti tante volte è un proverbio che non è un proverbio popolare ma un proverbio che si trova nei libri sapienziali un amico fedele è un balsamo prezioso lo troveranno coloro che temono il signore è stato scritto nei libri sapienziali non ricordo quale se è il libro della sapienza dei proverbio del siracide ma è uno di questi tre proprio testuale citazione ma fosse anche il migliore amico di questo mondo l'amico umano ha sempre una limitazione strutturale questo c'era anche il marito anche la moglie io tante volte ho detto un matrimonio è perfetto almeno per quanto mi riguarda quando se si chiede al marito ma chi è il tuo miglior amico non ci deve neanche pensare un secondo mia moglie e alla moglie chi è il tuo miglior amico mio marito così dovrebbe essere pensiamo io non vivo questo però ho una testa che penso l'intimità di due sposi vivere insieme dormire insieme mangiare insieme come dire avere dei gesti di intimità molto molto profondi che proprio comportano una enorme vicinanza no se c'è Gesù in mezzo a loro attraverso la santità del sacramento del matrimonio dovrebbe esserci ma dovrebbero diventare i grandi amici con chi parli di qualunque cosa ma con tua moglie con tuo marito ma di tutto ma di tutto ma trovando accoglienza supponiamo che già questo come sappiamo già questo è molto molto difficile perché le creature sono limitate e poi sono come noi c'è una loro debolezze magari io un giorno mi sento tanto triste c'ho bisogno di parlare e chi me sta vicino mio marito si sente più triste di me c'ha bisogno di parlare pure lui e allora è normale che sia così perché noi siamo esseri umani noi siamo imperfettissimi quindi siamo incapaci ma supponiamo anche che ci fosse una grandissima amicizia proprio prova di bomba c'è sempre un limite l'amico non può ma nessuno può fare questo se non Dio solo o la Madonna sicuramente dal Signore ha tutti i permessi per poter fare questo un amico non può né sapere fino in fondo quello che c'è nel mio cuore e tanto meno sentire le cose come le sento io non può sapere profondamente come sto non può sapere tutti quanti i pensieri che mi passano per la testa anche se io gliene comunico qualcuno no chi è l'unico ma proprio l'unico un movimento del nostro pensiero un movimento del nostro cuore un'intenzione un desiderio ma proprio una minima cosa un minimo movimento di inconsapevole di un di un dito Gesù lo conosce e Gesù lo conosce non soltanto dall'esterno Gesù lo conosce dall'interno pensiamo a quello che si dice nell'atto preventivo vediamo anche un attimo come dire un altro punto di vista molto molto semplice della vita nella divina volontà Gesù ti amo con la tua volontà Gesù facciamo tutto insieme fino a fondersi cioè fondersi è una vicinanza talmente questo il fondersi non possiamo realizzarlo con nessun essere umano adesso mi si permetta insomma di fare di nuovo l'analogia della vita noziale negli atti coniugali mi si perdoni insomma il paragone però cerco di usare un linguaggio sobrio insomma c'è una grande intimità una grande unione tra un uomo e una donna che è poi una manifestazione di una forma umana certamente però profonda di amore eh però non c'è una fusione perché rimangono comunque per quanto uniti due individui distinti non è che entrano uno nell'altro totalmente non è così ecco ma se noi ci facciamo caso specialmente quando siamo veramente proprio innamorati l'amore tende alla fusione cioè si vorrebbe diventare proprio una cosa sola ma proprio una cosa sola veramente l'amato avere una penetrazione piena totale nell'altro e dell'altro questo non è possibile tra due esseri umani non in questa vita almeno poi in paradiso se uno si legge il libro di tenere amata ci stanno un pochino di sorpresi anche sotto questo punto di vista ma in questa vita non è possibile ma con Gesù questo è possibilissimo pensiamo qui Gesù certamente fa il paragone tra il tabernacolo dove è sempre solo e il tabernacolo di un'anima che vive nella divina volontà dove è sempre compagnia e che e che brama un tabernacolo del genere c'erano tanti di tabernacoli eucaristici oggi sicuramente molti di meno detto proprio fra me e voi in termini abbastanza espliciti certamente molto molto di meno rispetto al 1928 però ci sono tuttora speriamo che almeno questi rimangano insomma in giro però quanti tabernacoli della divina volontà ma soprattutto oggi per esempio a messa chi ci andrà oggi è oggi la giornata dell'eucaristia ma dell'eucaristia proprio considerata come il banchetto succulento preparato dal signore ma che succede con l'eucaristia uno dice ma io non capisco niente della divina volontà e che cos'è la fusione ma scusa ma che cosa accade durante l'eucaristia ma che cosa accade quando ti fai la comunione che succede Gesù entra dentro ma mica per scherzo e entra cioè si entra dentro la tua bocca si dissolvono le specie e diventa una cosa sola misticamente ma realmente con te peccato che dura soltanto 15 minuti però accade non è un gioco è un marito non si può mi si perdoni il termine mangiare la moglie Dio non voglia che faccia una cosa di questo genere no però però Gesù si è inventato l'eucaristia per realizzare questa fusione anche con chi per duemila anni nessuno non ha saputo niente manco sapere cosa fosse un atto di fusione della divina volontà però sono duemila anni che la comunione veniva a distribuire ora quando è che questo però si realizza questi non sono gesti meccanici non sono gesti come dire esteriori c'è bisogno di una grande partecipazione di un grande affetto di un grande amore verso Gesù c'è bisogno soprattutto come si fa a vivere nella divina volontà basta deciderlo dice Gesù è fatto tutto come si diventa amici di Gesù allora Gesù è già amico nostro Gesù da parte sua è il nostro miglior amico Gesù è il migliore amico di ogni essere umano il miltop in assoluto da parte sua già c'è questa cosa e c'è con il meglio che tu ti possa aspettare che tu possa immaginare dov'è che non c'è non c'è da parte nostra è che noi non vogliamo Gesù come amico e attenzione attenzione alla duplica espressione non vogliamo Gesù come amico e non vogliamo essere amici di Gesù l'amicizia è un rapporto bidirezionale io do all'amico e io ricevo dall'amico allora cosa ricevi da Gesù tu ricevi da Gesù esattamente quello che è da Gesù cerchi e gli chiedi cerca la gioia nel Signore dice un salmo bellissimo esaudirai i desideri del tuo cuore dove la cerchi la gioia se tu la gioia la cerchi altrove buona ricerca ma il Signore non ti darà la sua perché non la cerchi da lui cerchi la consolazione e vai in giro piangendo e lamentando la destra a sinistra e lemosinando qualche parola di conforto eccetera eccetera qualcuno te la darà poca roba prova a cercare in Gesù la consolazione vedi che cosa vedi prova prova San Paolo San Paolo scrive sia benedetto Dio il quale ci console in ogni nostra tribolazione ma sto soffrendo tanto e cerca la consolazione in Gesù il quale ci console in ogni nostra tribolazione con una consolazione ecco perché noi con quella stessa consolazione con cui siamo consolati da Dio dice proprio così San Paolo in un periodo contorto possiamo consolare anche quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione ma la cerchiamo la consolazione in Gesù cerchi una persona che cerchi uno che ti che ti voglia bene che ti accolga senza aspettarsi niente da te che ti accetti anche nelle tue miserie certamente non volontari nelle tue imperfezioni nelle tue incapacità nelle tue debolezze a volte nelle tue incapacità ma Gesù è un fenomeno a fare questo è l'unico che lo fa lo fa solo lui lo fa nessuno è capace a fare la stessa cosa come proprio nessuno le persone purtroppo quasi sempre deludono e quando anche non deludano sono comunque limitate per quanto possono essere belle per quanto possono essere buone per quanto possono essere fedeli sono limitate più di tanto non ce lo possono dare ma Gesù si aspetta anche qualcosa da noi tante volte ce lo siamo detto qui in questi scritti è chiarissimo nella meditazione di qualche giorno fa Gesù chiedeva di farlo felice io posso fare felice Dio certo cosa fai tu per Gesù quanto vivi sotto i suoi occhi quanto nelle cose che fai c'è questo sguardo di attenzione che per quanto puoi insomma cerchi di fargli qualcosa che pensi che gli faccia piacere offrire una preghiera un sacrificio ma non solo queste cose una gentilezza un atto di virtù quanto hai a cuore la sua solitudine questo ce lo siamo detti nei giorni scorsi è quando possibile ti fermi un po' davanti a un tabernacolo non scappi dalla chiesa quando finisce la messa se non puoi se passi davanti a una chiesa ti fermi un attimo e ci entri dentro oppure se non puoi lo fai a distanza lo fai fai un atto d'amore che raggiunge Gesù in tutti i tabernacoli del mondo devi fare una comunione spirituale piccola media o grande insomma ce ne sono tante di formule no? facciamo tutto insieme dice l'atto dice l'atto preventivo ecco perché che cosa ci dice di nuovo in realtà in questa cosa facciamo tutto insieme quindi in un tabernacolo del fiat divino che cos'è il corpo di un'anima che vive nella divina volontà questo è il tabernacolo del fiat divino Gesù non cerca i tabernacoli di pietra cerca i tabernacoli viventi così come non cerca le chiese sappiamo che anche la chiesa l'edificio sacro come è evidente nell'episodio della purificazione del tempio di Gesù che cos'è l'edificio sacro ma l'edificio sacro è il nostro corpo San Paolo dice che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che non può essere profanato ecco perché i peccati impuri sono così gravi perché profanano il tempio di Dio la chiesa l'edificio sacro è una immagine del tempio di Dio che siamo noi Santa Teresa Davida come molte cose non 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 le conosciamo e non ce ne rendiamo conto Santa Teresa Davida ha scritto un capolavoro un best seller non è tanto semplice da leggere adesso devo dire la sincera verità insomma è bello però Santa Teresa Davida fa tanto l'umile però nei suoi scritti insomma si vede che era intrisa diciamo così di una cultura anche filosofico teologico scolastica tipico del suo tempo in maniera non ai livelli di San Giovanni della Croce però insomma il linguaggio è analogo è simile però nel castello interiore dove parla che cos'è questo castello interiore c'è un castello interiore un castello interiore dice Santa che è fatto a cerchi concentrici cioè a stanze che vanno dalla periferia al centro nel centro del castello lì arriva a conoscerlo soltanto chi arriva alla settima stanza con con tutta quanto il suo splendore per quanto possibile in questo mondo sai chi c'è nel centro del castello c'è Dio c'è c'è la Santissima Trinità ma la Santissima Trinità sta dentro di noi sta cioè è più intima a noi stessi di noi stessi solo che noi non lo sappiamo perché dice Santa Teresa perché la stagante maggioranza degli esseri umani ma neanche cioè su sto castello c'è il ponte elevatoio e poi ci sta chiaramente ci sta un come tutti quanti i castelli che si rispettavano sotto è circondato da un fiume da un canale e ci stanno i ponti elevatoio dentro quel canale ci stanno le serpi ci stanno i serpenti e fuori ci sta robaccia la quasi totalità degli esseri umani o vive fuori in mezzo alla robaccia o vive brancolando in mezzo alle acque torbide dove ci stanno visci di serpenti cioè i vizi del mondo ma ma cos'ha nell'atrio del castello capite chi è chi non è mai capace a rientrare un attimo in se stesso e dice anche Santa Teresa lo sai chi è che entra nell'atrio del castello chi comincia a pregare a pregare così padre nostro a fare la preghiera vocale quindi chi fa la preghiera soltanto vocale la preghiera vocale attenzione ma la preghiera vocale anche quattro rosari al giorno significa preghiera vocale siamo ancora a quel livello quindi stai comunque nell'atrio stai nell'atrio perché poi c'è la meditazione poi c'è la contemplazione poi c'è quella che noi chiamiamo la preghiera profonda cioè l'orazione di raccoglimento ecco quando si arriva alla preghiera profonda che porta all'unione già con Dio è il massimo che si può raggiungere con le forze naturali da quel momento in poi se il nostro Signore vuole proprio portarti dentro il castello ci penserà Lui che comincerà con l'azione di quiete che non è più una cosa è una cosa totalmente sopranaturale e poi tutte le altre tappe che poi arrivano fino al matrimano mistico comprese le grandi purificazioni però quindi cioè c'è già ecco e Gesù aspetta la nostra compagnia non solo vuole farci compagnia nessun battezzato può permettersi il lusso di dire sono solo adesso è quasi una mezza bestemmia Gesù prima di andare alla passione dice ecco verrà il momento in cui tutti voi sarete dispersi e mi lascerete solo gli uomini cosa aggiunge però Gesù ma io non sono solo perché il Padre è con me durante la passione questo si vede benissimo nelle ore della passione Gesù stava in silenzio spesso e volentieri esternamente non ha detto quasi manco una parola ha subito delle violenze inaudite ma lui interiormente era in dialogo ininterrotto con il Padre stava pregando stava offrendo continuamente fuori non si vedeva niente capiamo un attimo che significa questa cosa ecco perché ho sempre detto io ripeto non si sia neanche affacciati dentro la Divina Volontà per quanto mi riguarda altri possono pensare altre cose io sono l'ultimo arrivato e non non ho pretese ma per quanto mi è parso di capire per quanto mi riguarda chi non ha cominciato a avere un po' di relazione interiore di vita interiore di relazione personale con Gesù non ci si è neanche affacciato perché non basta dire nel lato preventivo facciamo tutto insieme a pappagallo sì certamente è importante ma poi ci deve essere una comunanza di vita Gesù è il nostro miglior amico e io voglio essere esageriamo esageriamo e io voglio essere il suo migliore amico non voglio soltanto che lui sia il mio migliore amico io voglio essere il suo migliore amico questa gara si può fare ma mi posso mettere a competere con padre Pio o con San Francesco no però inventiamoci qualcosa facciamo una una follia non ci arrivo a quelle altezze mi inventerò qualcosa con la mia piccola povertà con la mia povera umanità comunque ho delle risorse che che sono uniche perché ciascuno di noi è è un essere unico quindi forse non gli darei non sarei capace di dargli tanto quanto gli hanno dato i grandi santi ma quel poco che gli diamo è quel poco che ci abbiamo e Gesù è contentissimo e chi lo sa che magari volgendo lo sguardo su una piccolezza tanto misera però tanto innamorata chissà che magari Gesù per certi aspetti non sia magari anche più glorificato che è un grandissimo santo un fenomeno insomma che sta su un altro che sta su un altro pianeta chissà l'importante è che sia chiaro il messaggio di oggi amici di Gesù Gesù amico mio io amico suo grazie a tutti Grazie a tutti. E lui è stata la grande amica di Gesù e lui è stato il grande amico tuo. Sei tu che ci puoi certamente insegnare, aiutare e prendere per mano in questo. In questi tempi chi non si stringe profondamente a Gesù, chi non vive in intima e profonda comunione con lui e con te, è difficile che ce la possa fare. Non ci sono strumenti e fonti umane che possano aiutare o salvare in certe situazioni. Adesso è il tempo di stringere, facciamo ancora in tempo a farlo, di stringere profondamente i rapporti con Gesù e con te. possa lo Spirito Santo farlo comprendere ai cuori. Lui è il nostro amico e il nostro Salvatore. Tu sei la nostra amica e la nostra corredentrice. in voi riposiamo e stiamo sempre sicuri. A voi cercheremo di dare, per quanto possibile, tutto il nostro cuore, tutto il nostro amore, tutta la nostra povera ma sincera amicizia. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria